e quindi al sedicesimo raddoppia il mercadante su un tiro di Sofien parato con difficoltà dal portiere deviato ma è arrivato il nostro Alessandro, il nuovo amico del 2002 che ha riempito la rete Hideon, ancora Sofien sulla sinistra, un grande mattatore Sofien come tutta la squadra anche il numero 7 adesso inquadrato sta giocando una grande partita un po' sfortunato in due azioni, tiro ancora, grande tiro di Cristian, palo, ancora Sofien, gol 3-0 bravo ma diamo mezzo gol a Cristian